Tieniti pronto sarà fenomenale Italia's Got Talent arriva alla finale Per scegliere chi vince e chi perde Ti basta un'app oppure il tasto verde Puoi scrivere un massaggio con un dito Oppure vai direttamente sul sito Sta arrivando la finale puoi votare E su Facebook o su Twitter lo puoi fare Sta arrivando la finale se preparati a votare Sta arrivando il gran finale il tuo voto puoi inviare Vota il tuo talento preferito durante la finale Hai mille modi per farlo Italia's Got Talent la finale è live su TV8 Italia's Got Talent